Ciao, per carità, io ho guanti e mascherine sempre, non esco di casa senza e poi me li cambio spesso, diciamo che è una questione di igiene d'altronde come dice il detto, mensana in corpus, vabbè lo dice il detto ammazza però qui che schifo, che incivili ehi, dico a te, ma non a te, te, lo so che te non lo fai, no, dico a te quell'altro, quello che se ne frega tutto questo alla natura costa molto, in fondo basterebbe così poco gettiamoli nel bidone dell'indifferenziata, in fondo a noi, ma che c'è costa?